Buongiorno ragazzi, allora, volevo dirvi una cosa, oggi andrò dal dentista dopo anni, mi vergogno a dirlo ma saranno anni che non ci vado, seriamente, a fare un controllo, la polizia, eccetera, eccetera, perché? Perché sono rimasta traumatizzata da vecchi interventi o comunque mi fa paura in generale perché ho i denti molto molto sensibili ed è per questo che mi sono affidata al dottor Calogero, che mi seguirà da adesso. 360 gradi su tutto, man mano vedrete cosa faremo e vi spiegherò bene come funziona, lui coccola molto il cliente, come è giusto che sia, perché comunque i denti sono una cosa un po' particolare e bisogna darci il giusto peso. Ragazzi ho appena finito la visita alla pulizia dei denti con Super Calogero, aiuto, allora, diciamo che non sono messa molto bene, però sicuramente si potrà lavorare con noi, nel senso che mi ha fatto rendere conto di quanto sia importante l'igiene, ha anche dei macchinari particolari che ingrandiscono il dente tantissimo e ho notato che un po' di carietto, insomma, c'è, c'è, c'è tanto lavoro da fare. E mi ha fatto anche capire che non è vero che l'igiene va fatto una volta all'anno ma va in base alla persona, cioè tante cose che vi dicono i dentisti sono solo per spennarvi, lui non è qua per spennarvi ma per curarvi perché è un dottore e via, quindi ve lo straconsiglio, poi vi spiegherò meglio, adesso è la prima volta ma mi sa che ci vedremo spesso.